Buonasera, ben trovati in diretta dagli studi di Telebari. Alla Fiera del Levante di Bari è in corso la convention del centro da Estra, i primi due anni dal governo Meloni. È stata anche l'occasione per fare il punto su alcuni temi, tra cui l'inchiesta che ha visto coinvolto il comune di Bari e qui le dichiarazioni del senatore Maurizio Gasparri. Poi si è parlato anche di sanità con il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato, ma anche delle regionali. Sentiamo le dichiarazioni. Io faccio parte anche della commissione antimafia, dove il vicepresidente è Dattis. Quello che ho visto è sufficiente per assumere qualsiasi decisione. La fortuna del comune di Bari è che non le devo prendere io le decisioni. Io faccio il parlamentare e non devo mettere giudizi. Però ho visto situazioni che tutti conoscete, incontri, non incontri, assunzioni. Sono stati per molto meno sciolti numerosi comuni in Italia. Io amo la città di Bari e non si deve confondere l'amore per Bari con la difesa di amministrazione e di municipalizzate, perché poi fanno il giochino che noi ce l'abbiamo con Bari. No, non ce l'abbiamo con Bari. Anzi, difendiamo Bari da queste situazioni. Le decisioni le prenderanno gli organi preposti, che mi auguro siano un po' più incisivi di alcuni organi locali, di cui ho visto la bonomia con i miei occhi nei confronti dell'amministrazione locale. E adesso sentiamo le dichiarazioni del sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato. Ritengo che questo sia un gioco delle parti che accettiamo fino a un certo punto, nella misura in cui non si deve sempre e comunque polemizzare a prescindere. Il centrodestra avrebbe voluto fare una polemica sulla gestione della sanità in Puglia enorme, traendone probabilmente anche un risultato dal punto di vista elettorale. Non l'abbiamo fatto perché noi pensiamo a governare, pensiamo che per costruire non bisogna fare sempre e soltanto critiche, contrapporsi, ma bisogna appunto costruire. E ritengo che bene fa il Presidente del Consiglio Meloni e tutti quanti noi, seguendola, ad immaginare a un orizzonte di governo di cinque anni, e bene fa a non attardarsi le polemiche. Tema regionali, avete già un candidato, giocherete ad anticipo questa volta? Sulle regionali immagino che il candidato possa uscire da questa riunione molto partecipata, quindi iniziamo a fotografiare i volti dei dirigenti di Fratelli d'Italia, ricordo che tre sindaci su sé in Puglia sono di centrodestra, ci sta raggiungendo l'onorevole Adriana Polibortone, sintomatico del fatto che esiste una tradizione, esiste una presenza territoriale, abbiamo un viceministro, due sottosegretari, c'è il ministro Fitto che fra qualche ora penso assorgerà una delle cariche più importanti della nostra nazione in proiezione europea, c'è una classe dirigente che si mette a disposizione nel territorio, immagino che possiamo guardare con estremo favore al futuro. E restiamo sulla politica, Michele Emiliano annuncia che non si candiderà alle prossime elezioni regionali e sul nome del prossimo candidato del centro-sinistra spiega il profilo naturale e quello di Antonio De Caro, ma non ho ancora capito quali siano le sue intenzioni. Il servizio. Le elezioni regionali pugliesi in combo, noi Michele Emiliano, governatore della regione Puglia, è tornato a parlare del suo futuro. Sulla questione terzo mandato l'ex sindaco di Bari ha spiegato il suo punto di vista, la questione non è tecnica, io sono candidabile, ha dichiarato al graffio, la nostra legge elettorale non è stata mai adeguata al limite dei mandati, se lo facessimo il conteggio ripartirebbe da zero. Il punto è politico, io ho investito nella costruzione della generazione successiva e questa generazione è ormai pronta. Imporre il nome del presidente uscente sarebbe un atto politicamente sbagliato. Io sono dell'idea che politicamente sia necessario cambiare, per questo mi tiro fuori, anche perché vorrei evitare di farmi archiviare dagli altri, voglio archiviarmi da solo, deve finire bene. Ritengo giusto occuparmi di qualche altra cosa con altri ruoli politici, ha aggiunto il governatore. Ad esempio, vorrei capire con il fronte progressista se ci sono le condizioni nel 2027 per dare al Paese un governo diverso. Questo è un discorso che mi interessa. Infine, l'endorsement per Antonio De Caro. Penso che sarebbe il candidato naturale, ma non ho capito cosa voglia fare. Il successo elettorale e il conseguente ruolo prestigioso che le è stato riconosciuto, credo lo abbiano messo in difficoltà. Dovrà ragionare con se stesso, con la sua famiglia e se vorrà con me. La cronaca. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco a San Giorgio. Questo pomeriggio, all'altezza del civico 25, per un crollo avvenuto all'interno di un edificio abbandonato, stando le prime informazioni, avrebbero ceduto pezzi della struttura dismessa all'interno. Non ci sono stati feriti, sono in corso ancora i rilievi e l'area è stata delimitata. Sosta a pagamento sulle strisce blu anche nei giorni festivi, nella fascia serale l'ipotesi a cui sta lavorando Palazzo di Città per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Lo ha detto il sindaco Vito Leccese nella nostra rubrica del venerdì. Sentiamo. Stiamo pensando di mettere il grattino soprattutto nelle aree centrali, di ripristinarlo anche nei giorni festivi e comunque di allungare il periodo, diciamo perché attualmente sino alle 20 o alle 20 e 30 in alcune regioni della città prolungare il tempo per evitare anche il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. E questo soltanto... Molto spesso perché esplode il fenomeno dei parcheggiatori abusivi soprattutto nei giorni festivi quando non si paga il grattino però questa forma di pizzo, di estorsione viene effettuata dai parcheggiatori abusivi. Anche lì è un fenomeno assolutamente disdicevole sul piano sociale ma purtroppo le amministrazioni comunali non hanno molti strumenti per prevenirlo, contrastarlo e reprimerlo perché una volta sanzionato il parcheggiatore abusivo dopo qualche ora ritorna a fare esercizio abusivo del mestiere di parcheggiatore. Un provvedimento quello di allungare i grattini, il pagamento della sosta anche nelle ore serali, che pensate di prendere entro quando? Ci saranno polemiche ovviamente ma ormai... No, no, ci stiamo pensando. Siamo in fase di studio ma credo che ci arriveremo non prima della fine dell'anno. E torniamo sulla cronaca. 11 ordini di carcerazione sono stati eseguiti dai carabinieri ad Altamura. Definitive le condanne per alcune persone ritenute vicine al clan Lo Iudice. La cronaca. Tipo mafioso armata, estorsione, detenzione, porto illegale di armi, turbativa d'asta e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Accuse che hanno portato dopo una lunga attività di indagine a 11 ordini di carcerazione eseguiti dal comando provinciale dei carabinieri di Bari nei confronti di altrettante persone colpite da sentenze definitive di condanna per reati commessi ad Altamura tra il 2018 e il 2019. Gli arrestati sono ritenuti vicini al clan Lo Iudice operativo nella città della Murgia. Gli ordini di carcerazione fanno riferimento all'inchiesta denominata Logos. La stessa ha permesso di ricostruire le attività illecite del sodalizio mafioso che, secondo le indagini, avrebbe impedito il regolare svolgimento di aste pubbliche in favore di alcuni soggetti, obbligando altri partecipanti ad accettare denaro, a volte ricorrendo anche alla minaccia o alla violenza. Parallelamente, il sodalizio avrebbe gestito tutte le principali piazze di spaccio di Altamura, rifornendo con regolarità i pusher per la vendita di cocaina, hashish e marijuana, ma non solo. Durante l'indagine è emersa anche una notevole sproporzione fra erediti dichiarati e il tenore di vita delle famiglie di alcuni elementi di spicco del clan, culminata nella confisca di beni per 150.000 euro al sequestro di contanti per oltre 162.000 euro. Tutte le pene inflitte oscillano tra i due e gli undici anni di reclusione. I genitori degli alunni delle scuole pugliesi possono d'ora in poi autorizzare gli istituti a somministrare i farmaci necessari ai propri figli, compilando una modulistica specifica e allegando anche una prescrizione medica. La procedura riguarda i farmaci che non richiedono abilità specialistiche sanitarie e per i casi più delicati che necessitano invece di competenze mediche potrà essere coinvolto il personale sanitario dell'Astra in accordo con le scuole quanto prevede un protocollo d'intesa sottoscritto tra Regione Puglia, Ufficio Scolastico Regionale e Aziende Sanitarie e Locali volto a garantire la somministrazione di farmaci agli studenti durante le ore in cui sono a scuola. Questo protocollo, ha spiegato il Vice Presidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, rappresenta un ulteriore passo avanti nella tutela della salute degli studenti. Cambiamo argomento. 30 anni di Edilcassa di Puglia che celebra questo compleanno con una giornata di incontri e di dibattiti. Una giornata di celebrazioni per il trentennale di Edilcassa Puglia ma anche un'occasione per riflettere attraverso una tavola rotonda sulle nuove prospettive e strategie che possano garantire uno sviluppo sostenibile e innovativo per il settore delle costruzioni in Puglia. L'appuntamento è nel centro congressi della Fiera dell'Evante dove si sono riuniti esperti del settore da tutta Italia, rappresentanti istituzionali e professionisti che si sono confrontati sulle nuove tecnologie, la sostenibilità ambientale e le esigenze di sicurezza. Trent'anni è un traguardo importante che abbiamo raggiunto e sinceramente siamo molto contenti nonostante un percorso lungo, faticoso, però abbiamo raggiunto importanti risultati e quindi grazie all'aiuto di tutti stiamo celebrando oggi questa festa dove ci sarà, al di là del trentennale con la parte politico-istituzionale questa mattina, poi avremo nel pomeriggio la nostra festa. Si prosegue poi con la prima edizione del Festival Edilcassa di Puglia presentata da Antonio Stornaiolo per la premiazione delle eccellenze del mondo del lavoro e dell'imprenditoria pugliese. I premi destinati ai consulenti, imprese e lavoratori sono ispirati a titoli di canzoni famose La storia siamo noi, vado al massimo e sogna ragazzo sogna sono solo alcuni esempi. Il tema è il settore dell'edilizia, quindi abbiamo avuto la fortuna di avere il Cresme che è un centro di ricerca, uno dei più importanti centri di ricerca che utilizza la Commissione Nazionale delle Cassedili, Lorenzo Billicini che è il direttore di questo centro dove illustrerà negli ultimi 20 anni tutto il settore dell'edilizia stiamo facendo anche un paragone tra la situazione italiana paragonata anche alla situazione nostra del Meridione. La pagina dello spettacolo Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo hanno inaugurato la stagione 2024-2025 del Teatro Forma con tutto il mondo e un palcoscenico. Sentiamo. Noi facevamo un sacco la posa qua, quando eravamo ragazzi venivamo dove andiamo a fare la posa a Telebari Posando, posando, qui registrammo Filomena Cosa Depurata perché era uno studio televisivo. Archiviato il Cotto e il Crudo, adesso cosa date al vostro pubblico barese non solo? Ma sai, noi abbiamo pensato... Ma sai, noi siamo passati al Cotto e il Crudo a Shakespeare come se fosse niente, infatti la gente ha fatto... Ma veramente volete fare questa cosa? La stessa cosa invece, sempre un modo per giocare con le parole perché anche il Cotto e il Crudo aveva un suo strato non indifferente veniva da un grande antropologo quindi, non lo so, sono molto simili come spettacoli ma anche molto diversi. Ci spostiamo a Lecce dove prosegue Game Open Salento per informare e sensibilizzare sui temi dello sport e del sociale. Il servizio di Fabio Serino. Proseguono senza sosta le attività del Festival Provinciale dello Sport per Tutti la rassegna di incontri educativi e sportivi per informare e sensibilizzare sui temi dello sport accessibile, pari opportunità ed inclusione sociale. Domenica mattina saremo al Campo Montefusco Coni di Lecce per la seconda tappa del Festival Provinciale dello Sport che è un tour organizzato nell'ambito del progetto Game Open Salento finanziato dal programma Game UPI di UPI Puglia a valere su risorse della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Dipartimento per le politiche giovanili e per il Servizio Civile Universale. È un appuntamento molto importante che abbiamo iniziato già domenica 13 a Martano e che riunisce tutti quelli che sono i soggetti, le associazioni sportive che si occupano di varie discipline, quindi sport, conciliandolo con un corretto stile di vita alimentare e anche inclusione ai soggetti svantaggiati. E per questa edizione del Telegiornale è tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento e buona serata. Ben trovati in aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato con la zona di bassa pressione in arrivo dall'Oceano Atlantico verso la Spagna, sprofonderà verso sud, ma continuerà a richiamare sul bordo anteriore orientale queste correnti molto umide dal Nord Africa con instabilità sulla parte occidentale della nostra penisola. L'alta pressione è di fatti di blocco, sarà sempre ben presente tra l'Ucraina e in generale tutti i paesi orecchi. orientali del vecchio continente. Ecco, di fatti le piogge in risalita dalla Spagna, dal Nord Africa verso la Sardegna, le centrali tirreniche, anche l'Italia settentrionale, piogge anche abbondanti su Liguria, Piemonte e Valle d'Osta dove potrebbero cadere anche oltre i 50-100 mm di precipitazione in giornata. La mappa ci mostra l'instabilità sulla Toscana, il Nord Ovest e la Sardegna anche con temporali intensi, restanti zone centro-sud con sole, alternato a nuvole medio-alte in transito ma minor rischio di pioggia. Tra l'altro al sud ancora clima mite per lo scirocco. Tutti i dettagli precisi, gli approfondimenti, scariciamo l'app di Travi Meteo.